Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Gli effetti dell'anticiclone africano, che in questi giorni ha mostrato segni di cedimento, si smorzeranno sempre più in seguito all'arriva di aria più fresca dei Balcani. Gli effetti si tradurranno in una spiccata instabilità sulla catena peninica e localmente sulle zone interne. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni, per sabato 17 giugno. Cielo sereno, poco nuvoloso al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità associata a precipitazioni anche di carattere temporalesco durante le ore pomeridiane, specialmente sulle zone interne dell'Appennino Dauno, dell'Appennino Lucano e con sconfinamenti sul Materano, Murge e Litorale Metapontino, migliore in serata con clima più fresco e ventilato. Temperature pressoché stazionarie, nei valori minimi, in diminuzione nei valori massimi, venti deboli variabili ma con tendenza dal pomeriggio sera a disporsi da nord e a rinforzarsi. Mari in generale poco mossi ma con moto unduso in aumento dalla serata. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro telespettatore Luigi Chiriaco per averci inviato la magia delle prime luci del mattino che illuminano i faraglioni di Santa Andrea sulla costa salentina. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero whatsapp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.